Incidente frontale tra due vetture questa sera, sabato 9 giugno intorno alle 23, sulla strada provinciale 460, poco dopo l'incrocio della Vittoria, all'altezza di Bosco Nero, ma nel territorio comunale di Rivarolo Canavese. A scontrarsi un Peugeot 206, condotto da una 24enne di San Giusto Canavese, con a bordo un ragazzo di 28 anni, e un Porsche Carrera Cabrio, guidato da un 51enne di Rivarolo, con a bordo una 57enne anch'essa di Rivarolo. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze della Croce Rossa e i carabinieri di Rivarolo Canavese e del nucleo radiomobile di Ivrea. Il bilancio è di quattro feriti trasportati all'ospedale di Ciriè, non dovrebbero essere in pericolo di vita. Per la batteria! 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 Grazie.